Progressiva, una mostra di arti visive al Museo della Città, arti visive a Livorno del 1989-2020. Questa è la brochure, adesso vedremo anche nelle opere, la brochure ci spiega il senso di questa mostra. Stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, un pochino simile a quello che accadde nel secondo dopoguerra. Nel 1945 a Livorno furono allestite molte mostre, proprio per ripartire anche dal punto di vista culturale. Ecco, questa mostra è proprio quel senso, ripartire, fa ripartire la cultura, ricominciare ad occuparci di ciò che ci può far crescere e di ciò che amiamo. Allora andiamo a vedere qualche opera in questi locali che hanno accolto anche la mostra di Modigliano i mesi scorsi. Tanto per cominciare, questo è un quadro di Renato Guttuso. Le gallerie d'arte di Livorno, queste di proprietà della Galleria Guastalla, si sono unite, diciamo così, per dar vita a questa mostra che adesso noi andiamo a visitare. Grazie a tutti.